Vado a presentare immediatamente i pugili che saliranno qui sopra ed affronteranno il primo incontro della serata. Chiamo i partecipanti, è una categoria senior, all'angolo rosso, con un peso di 61,500 kg. Combatte per la pugilistica italiana. Signori e signori facciamo un grandissimo applauso a Marco Di Benedetto! Il suo avversario, all'angolo blu, aspetta che ti annuncio. Con il peso di 63 kg, combatte per la Belushi Box Promotion. Signori e signori facciamo un caloressimo applauso a Simone Assalta! Bene signori, siamo pronti per cominciare. Facciamo ancora un grandissimo applauso a questi ragazzi. Marco Di Benedetto all'angolo rosso, Simone Assalta all'angolo blu, categoria senior. Tre round da tre minuti. Prima ripresa. Prima ripresa. Grazie. 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 Fine prima ripresa. Fuori i secondi. E diamo inizio alla seconda ripresa. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.